Pietro, una trattativa, non voglio dire lampo, ma pressoché lampo, c'era reciproca voglia di chiudere questo affare che poi è andato in porto? Assolutamente, quando ho saputo che c'era questa possibilità, avendo finito il mio rapporto con la Virtus, l'ho colta al volo, so la storia della fortitudo, so l'ambizione che hanno, a Bologna come città, si vive bene, si sta bene, so l'affetto del pubblico che ci sta dietro a questa squadra e quindi l'ho preso subito in considerazione. Fra 3-4 giorni in Grecia avrai anche occasione di incrociare quello che fino a pochi giorni fa è stato il tuo allenatore alla Virtus, se ci sarà l'occasione, come credo, di incrociarsi e di confrontarsi, vi direte qualcosa, gli direi qualcosa, ti dirà qualcosa? A me non fa né caldo né freddo, l'unica cosa che posso dire è che c'era il momento per parlare, lui non l'ha mai fatto, fino all'ultima cena rideva e scherzava e con me, io sono abituato a dire in faccia alle persone quello che penso, quello che voglio fare, però ci vuole personalità e non è da tutti farlo, quindi io vado avanti per la mia strada. L'ultima cosa che ti chiedo, le tue prime parole, da giocatore della fortitudo ai tifosi della fortitudo? Non c'è bisogno di caricarli perché so che sono carichi a molla, fin da portare 5-6 mila persone quando sono ripartiti da Serie B, quindi saranno carichissimi, lo sono anch'io e quindi ci aspetta una grande stagione.